16 giugno 2023 terzo giorno di Sherwood Festival Carmen Consoli e Marina Rei benvenute ciao ciao è un piacere avervi qui abbiamo appena ascoltato qualche nota spoiler di quello che sarà il vostro live di questa serata e dove eravamo rimasti eravamo rimasti perché lui è un ragazzo di oggi è un ragazzo di oggi per cui utilizza questo linguaggio tipo una nota spoiler vuol dire che loro hanno beccato una cosa segretissima che non si deve sapere hanno spoilerato una parte del nostro concerto eravamo rimasti assolutamente no ma l'abbiamo ascoltata a proposito dei ponti c'è chi parla di ponti sullo stretto di Messina però ci sono anche dei ponti musicali appunto con i giovani magari durante questo periodo c'è qualche suono che vi ha preso inaspettatamente bene tra drum machine anni 80 pad nebulosi oppure autotune io ho un figlio di 21 anni appassionato appassionato di trap e hip hop diciamo lui guarda solo al lato internazionale quindi diciamo che io tutto questo aspetto un po' lo ascolto da dall'esterno insomma e mi fa piacere come dire assorbire e ascoltare come qualità di no utente che impara no qualcosa che non mi appartiene ma che appartiene ovviamente alle nuove generazioni quindi sono contenta di arricchirmi se vuoi da questo sotto questo aspetto no certo poi devo fare comunque i conti con quello che sono io con 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 la musica che che comunque faccio o in qualche modo con quello che è che appartiene più alla mia generazione senza assolutamente mancare di uno uno sguardo all'altrove assolutamente però ecco rispettosamente con dignità essere sempre me stessa voi usate la vostra voce come strumento e siete anche strumentiste in cosa vi piace sentirvi strumento voi stesse della musica a me piace sentirmi veicolo strumento in quanto proprio veicolo di un sentire che trasmetto al pubblico e viceversa è bello quando succede questa cosa in questo senso poi come strumentista vivo una certa indipendenza ecco mi sento autonoma e l'autonomia è molto bella cioè alla fine ho sempre la mia chitarra e non ho bisogno di niente Marina oltre la batteria visto che suoni la chitarra il pianoforte la batteria il basso questa suona tutto però sai volere bene anche un'amica e anche ammettere vabbè meglio di me però io le voglio bene è più alta è più magra suona tutto però le voglio bene accetto questa cosa accetto e mi faccio irradiare a proposito di cucinare e a proposito di musica quale pezzo vi piacerebbe che non avete ancora preso in esame destrutturare e ricostruire un pezzo altrui maledetta primavera che fretta c'era maledetta primavera esatto grandissima loretta goggi che cos'è adesso per voi la cosa più importante di restare indipendenti con la creatività con quello che con la forza di espressione beh l'hai detto tu esattamente questo essere indipendenti vuol dire massima creatività e massima libertà nella creatività cosa che probabilmente non si riuscirebbe a fare invece in un altro contesto quindi indipendente vuol dire questo io ormai sono anni che pubblico o sulla mia etichetta o comunque su etichetta indipendente e ho fatto questa scelta proprio per questo perché quando scrivo un disco devo essere convinta io innanzitutto di quello che scrivo e non voglio pressioni e non voglio compromessi e non mi interessa più insomma seguire un certo tipo di logica per me l'unica logica musicale è quella del veramente del cuore e della passione e della libertà basta e quindi sicuramente si sposa con l'indipendenza ora ovviamente il mio pensiero va a questo sono d'accordo con tutto ciò che ha detto marina è inutile che adesso ripeto quello che è successo a me nella mia vita le scelte che ho fatto però perché vi sia indipendenza nel senso di libertà occorre che vi sia anche un terreno fertile il terreno fertile nel quale deve nascere questa ginestra leopardiana deve però permettere che nascano tante altre piante di indipendenza per apprezzare l'indipendenza bisogna dare il nutrimento giusto a questa pianta il nutrimento giusto a questa pianta dal mio punto di vista è una rivalutazione immediata della cultura di quello che è il tempo per capire delle cose per approfondire delle cose è ciò che stiamo sottovalutando tantissimo perché essere indipendenti vuol dire seguire un percorso che esce dai binari però per capire il pensiero laterale e capire un altro percorso occorre avere la mente aperta noi veniamo da un'epoca di tweet di twitter e di messaggi useggetta per cui di titoli tu lo sai sei un giornalista per cui non si va oltre il titolo non si approfondisce ahimè do una bruttissima notizia oggi noi preghiamo e siamo devoti al dio denaro che ha sostituito dio gesù dio cattolico dio denaro purtroppo litica col tempo perché tempo è denaro meno tempo impieghi per fare una cosa più guadagni perché il profitto governa tutto secondo me dovremmo rinunciare un po' a questa idea di profitto in ordine di tempo e riprenderci i tempi per riflettere sulle cose per elaborare i lutti per elaborare una canzone per dare il tempo di ascoltarci di ascoltare le cose e fare crescere una pianta un po' ostica perché è indipendente però si dice che l'eccezione confermi la regola e se non ci fossero le piante indipendenti non ci sarebbe rivoluzione adesso c'è tanto bisogno di un pensiero diverso perché è molto piatto questo pensiero che ci governa ma non è un pensiero piatto perché è costruito è un pensiero piatto perché è suggerito cioè è un pensiero usa e getta suggerito perché abbiamo vissuto anche in un periodo in cui abbiamo rimosso la storia abbiamo fatto un revisionismo storico la storia non ha importanza no la storia non è fondamento di identità chi se ne frega l'importante è oggi oggi la parola d'ordine è fresh ma questo non i giovani nostri in generale perché io per esempio vedo che Nicosin si rifà al passato perché il passato è fondamento di identità quindi il lavoro è stato certosino è stato che senso ha la storia rimuoviamo la storia noi siamo oggi ma se non abbiamo una consapevolezza storica se non abbiamo una cultura di ciò che siamo e ciò che siamo stati ciò che hanno fatto i nostri nonni i nostri antenati non possiamo costruire e quindi l'indipendenza ben venga però secondo me l'indipendenza deve avere una forza che è la conoscenza grazie a tutti